Amici di Super Goal siamo pronti alle 21 in diretta streaming su econews.it parte la nuova stagione calcistica del settimanale Teramano calcistico per Antonomasia, oltre 20 anni di storia sono oramai alle nostre spalle. E sarà la prima occasione per analizzare l'esordio poco fortunato o se gradite infelice del Teramo battuto a Catanzaro per due reti a uno, soffrendo oltremisura nel primo tempo e al contrario riabilitando un po' la gara, non nel risultato ma nella prestazione nel corso della ripresa. Ci chiederemo se c'è un caso infantino a Teramo, probabilmente c'è anche alla luce delle dichiarazioni di Bruno Tedino nel pre-gara quando asserì senza mezzi termini che qualora l'attaccante lasciasse la maglia bianco-rossa l'organico a sua disposizione lo soddisferebbe a prescindere. Come dire, se deve andar via può andar via. Avremo un collegamento telefonico in questo primo numero con Pino Tortora, bandiera del calcio bianco-rosso, perché? Perché ieri era presente al Nicola Ceravolo di Catanzaro, peraltro percorrendo circa 100 km più 100 tra andata e ritorno dalla sua location. E poi faremo anche una riflessione sul fantastico pubblico Teramano al seguito, perché portare oltre 100 tifosi a Catanzaro non è cosa da tutti, oltre 1400 km. Pensate, tra andata e ritorno c'è gente che è tornata in città stamane alle primissime ore del giorno, 4 e mezza, 5, è stato visto un pulmino di tifosi arrivare a destinazione. Ci chiederemo anche che fine farà l'area prospicente il bar dello stadio Gaetano Bonolis, perché ci siamo lasciati nella stagione scorsa con un impegno dell'allora gestore Sabatino Cantagalli nei confronti del club bianco-rosso. Lì sarebbe dovuto sorgere il museo del Teramo Calcio. Al contrario, in una recente conferenza stampa, abbiamo ascoltato il Presidente Franco Iachini parlare di location, quell'area, della futura sede del Teramo Calcio. Quindi sicuramente si dovrà trovare un'eventuale situazione, sistemazione diversa per quanto riguarda il museo. Ma per la verità il club bianco-rosso da noi interpellato fino a questo momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito. E parleremo anche della futura gara del Teramo, perché è a forte rischio disputa, nel senso che contro la Sicula Leonzio non c'è ancora, mentre registriamo questo bromo, una sede definita dove poter disputare la gara. Si corre il rischio che questa gara non si disputi e in tal caso verrebbe recuperata successivamente con il Teramo, che sarà invece poi impegnato nella terza di campionato, saltando quindi la seconda e giocando nuovamente in trasferta. Con chi parleremo di questo? Beh, col padrone di casa, Tonino Valbruni, che non è più l'ospite, non è più l'ospite fisso, è un riferimento di Super Goal. Con lui diverrà anche proprietario, tra virgolette, della trasmissione Andrea Malatesta, volto nuovo televisivo, ma avvocato nella vita di tutti i giorni, vicino al mondo del calcio, sarà il personaggio nuovo della nuova stagione di Super Goal e ovviamente un terzo ospite. Ex dirigente del Teramo Calcio, parliamo dell'avvocato Umberto Sorgentone. Questi gli ospiti del primo appuntamento con Super Goal stasera alle 21 in diretta streaming. Anche questa è una novità e se a qualcuno toccava, evidentemente toccava bagnarla proprio a Super Goal in diretta streaming alle 21 su econews.it. Vi aspetto.